Anno scolastico nuovo, problemi vecchi, anzi in alcuni casi nel Terramano si può parlare di vere e proprie emergenze. A lanciare l'allarme la FLC-CGL di Teramo che torna a denunciare la carenza di personale pari al 25%, in particolare per il sostegno. Una circostanza quest'ultima che rischia di creare ulteriori difficoltà a quegli alunni e alunne che già vivono in una situazione di fragilità. Si è aperta la scuola con i soliti problemi, quindi con mancanza e carenza di personale soprattutto ata, con deroghe rispetto agli insegnanti di sostegno e quindi questa cosa ha comportato un inizio dell'anno scolastico turbolento. Sono tante nelle assemblee che abbiamo fatto fino ad ora le richieste sia da parte delle RSU ma anche degli stessi dirigenti e degli stessi lavoratori e lavoratrici che ci chiedono di fare qualcosa affinché venga dato più organico rispetto soprattutto ai collaboratori scolastici, in quanto c'è davvero carenza. Nelle scuole c'è difficoltà addirittura a far partire delle attività quotidiane come ad esempio la mensa, aprire la palestra e quindi questa cosa è ovviamente un problema considerevole. Durante l'assemblea è stata anche affrontata la questione del dimensionamento scolastico, argomento che sta suscitando non poche preoccupazioni. La spada di Damocle che abbiamo sulla testa in quanto a fine novembre bisognerà decidere quali sono le scuole che saranno accorpate e quindi dimensionate. Ovviamente noi della FLC abbiamo detto no al dimensionamento ma anche lo stesso tavolo provinciale si è espresso nello stesso modo e ovviamente l'immancabile autonomia differenziata che ovviamente per noi è un no netto e secco. Presenta all'incontro anche Manuela Calza della FLC Cigelle Nazionale che ha rimarcato l'importanza della manifestazione nazionale La Via Maestra insieme per la Costituzione in programma per il 7 ottobre a Roma. Una grande manifestazione, una grande manifestazione per i diritti, per il lavoro, per la Costituzione, per un fisco equo e sicuramente all'interno di queste tematiche occuperà uno spazio importante il richiamo all'unità del nostro Paese.